assaggiamo il cicci bacco che cos'è il cicci bacco ragazzi chi di voi ha mai sentito parlare del cicci bacco piccola frutta rossa erbe aromatiche un ritorno anche di viole un sospiro speziato questo lo dico per gli haters che mi prendono sempre in giro le erbe aromatiche mi si sentono piccola frutta rossa e fragoline non schiacciate poi il ribes rosso non quello nero bocca molto diciamo di grande vivibilità con un tannino rugoso no però comunque che sta appena appena sopra le righe freschezza acida che comunque gli dà una mano e che comunque rende da regalo slancio al vino regalo slancio al vino quindi è il cicci bacco qui abbiamo un 60 per cento di sangiovese il resto merlo il sangiovese è stato vinificato con macerazione carbonica si sente il merlo invece è stato vinificato normalmente e poi hanno fatto un assemblaggio per rendere questo vino novello stiamo parlando di novello per dargli una grinta un po diversa quindi non creare secondo me è il solito qui comunque il sangiovese deve aver avuto una fermentazione un po' pigra perché si sente anche delle profumazioni comunque sia una cosa di cantina la cosa mia però il vino è fatto molto bene pulito è molto soddisfacente non è il solito novello paccioccoso largo fruttatone e noioso ma questo è invece un bel novello vi faccio vedere l'etichetta se non mi sgridate siamo in romagna il vino si chiama cicci bacco e ballardini riccardo è il produttore quindi non è il solito novello noioso questo secondo me con le paste in brodo con i bolliti con con certi salumi la merenda con dei formaggi anche medie stagionature perché comunque non è il solito novello secondo me questo novello che si è novello ma c'è una bella novello che mantiene una certa grinta quindi è facile piacevole 12 gradi e mezzo quindi non è neanche impegnativo da un punto di vista diciamo alcolico è anche una digeribilità che importante quindi devo dire lavora tutto sulla piacevolezza salute